Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, come avrete potuto intuire dal titolo parliamo di orologi, orologi come investimento, orologi come ottenerli, orologi quali, come sceglierli e come evitare le fregature. Partiamo da un presupposto, tutti associano Rolex al mondo dell'orologeria di lusso ed è giustissimo, Rolex è sicuramente un orologio di lusso, non dire il più economico costa, non ha senso perché poi ci sono gli orologi da donna, quelli da donna valgono molto meno, bisogna capire la misura, bisogna capire, insomma c'è un mondo dietro dove magari un Rolex è un pessimo investimento, un altro Rolex è un ottimo investimento, ma voglio partire da un presupposto, il vero appassionato secondo me non compra solo Rolex, ad esempio io in collezione ho un Bulgari Octo finissimo scheletrato, non porto qui la collezione perché voglio fare dei video così molto diretti, alcuni ce li ho in cassaforte, altri sono in banca nel cavo, alcuni sono sparsi per il mondo, quindi sarebbe anche impossibile riunire tutta la collezione qui, però spesso mi hanno fatto i complimenti per il mio Bulgari Octo finissimo scheletrato, che ad esempio è un orologio che la maggior parte della gente non conosce, che passa anche molto inosservato che è ciò che io amo di quell'orologio, è fatto in titanio, è particolarissimo, e ad esempio quella è altissima orologeria, però la gente lo snobba, ah è un Bulgari, è un Bulgari, l'ignorante ovviamente, è un Bulgari, peccato che le persone non sanno che quel Bulgari comunque costa più di 20.000 euro, non sanno che Bulgari sta vincendo da anni il Grand Prix d'orologerie, quindi diciamo la massima competizione per l'alta orologeria, e non sanno che ad esempio il Bulgari finissimo scheletrato è stato disegnato da Gerald Centa, che è anche colui che ad esempio ha disegnato il Royal Oak di Ademar Piguet, o il Patek Philippe Nautilus, quindi spesso gli ignoranti pensano che il Rolex sia il non plus ultra dell'orologeria, quando in realtà è un ottimo brand, è un brand di lusso, ci mancherebbe altro, ma l'alta orologeria, l'altissima orologeria è anche altra, ad esempio uno dei miei brand preferiti è Vacheron Constantin, con l'Overseas in tutte le sue configurazioni, quadrante blu, non quadrante blu, sono degli orologi meravigliosi, l'Overseas che piace a me, costa 70.000 euro, come prezzo di listino, e Rolex come questo che indosso, questo costa sui 15.000, questo è uno degli ultimi che ho preso, è un Submariner acciaio e oro giallo, con quadrante blu, mi piace molto, mi piace il colore, è particolare, di norma l'acciaio e oro non mi piace, ma questo in particolare mi piace. Detto ciò, parliamo un attimo di innanzitutto come capire se un orologio è un buon affare o meno, beh, se tu entri in una concessionaria Rolex e ti propongono subito quell'orologio, al 99% non è un buon affare. Mi capita spesso di vedere dei post nei gruppi Rolex Italia, eccetera, di cui faccio parte, o che delle persone vicino a me mi dicano, ah sai, tu dico, mi è stato proposto questo orologio. Se tu entri in un concessionario Rolex e ti propongono un orologio, devi sapere che quasi sicuramente è un orologio che sul mercato parallelo, che non è illegale, ma semplicemente nel, diciamo, lo street price, quello che trovi poi realmente in giro, sarà sicuramente più basso. Quindi se ti propongono, ad esempio, un full gold, non so, un GMT full oro rosa da 40.000 euro, è perché probabilmente appena esci da lì quell'orologio non vale di più, ma te ne vale 30-32. Due, se ti propongono uno yacht master tempestato di diamanti, pavè, è perché quell'orologio è invendibile, gli è rimasto sul groppone e se glielo compri gli fai un favore. Non è un orologio che prendi e rivendi ad un prezzo maggiore. E qui poi si apre uno scenario, ovvero, compri l'orologio perché ti piace, perché te lo vuoi indossare, te lo vuoi tenere, non preoccuparti del prezzo di rivendita. Se compri per fare speculazione o come investimento, devi preoccupartene. La prima regola è, se, ripeto, entri in un concessionario e ti propongono un orologio, sin da subito c'è qualcosa che non va. Informati, vai su Crono24, confronta il prezzo di listino con i prezzi che ci sono in piattaforma, calcola che quei prezzi sono leggermente gonfiati perché poi si va sempre a, come dire, a trattare sul prezzo con queste persone e ti fai due calcoli. Ultimamente mi è stato dato da un concessionario con il quale non avevo nessun tipo di rapporto, un Daytona acciaio oro giallo. Mi ha fatto piacere, mi ero, come dire, interessato a questo orologio, in questa concessionaria che non è, diciamo, la mia solita concessionaria e non è neanche nella città dove vivo o dove ho vissuto storicamente. Ho ricevuto una chiamata chiedendomi se fosse interessato ad acquistare il pezzo e sì, sono stato interessato ad acquistare il pezzo. Però anche lì ho espresso un interesse, evidentemente c'è meno richiesta o quel modello ha meno richiesta e a distanza di, non mi ricordo, otto mesi, un anno, quello che è, sono stato chiamato. Ma parlando dell'esperienza, quindi passiamo al capitolo di come, che forse è la parte più interessante perché nessuno lo dice, ma io voglio dirlo, come riesco ad acquistare i Rolex a listino? Perché la maggior parte degli orologi che io ho preso, li ho presi quasi sempre a listino. Mai pagandoli più del prezzo di listino, è una cosa che io non sopporto, pagare gli orologi sopra il listino perché già io penso che pagare 16.000 euro per questo orologio sia un'esagerazione. Pagarne 20 da un reseller è ancora più stupido, quindi voglio essere stupido a metà, diciamo così. Anche perché comunque se domani volessi andarla a vedere, comunque so di poter generare una plusvalenza. Se lo compro da un reseller, difficilmente poi, con soprattutto l'andamento che sta avendo il mercato ad oggi, difficilmente io posso poi generare una plusvalenza. Quindi ti garantisci la plusvalenza se compri determinati modelli a listino. Se compri da reseller è molto difficile che poi tu possa generare una plusvalenza. C'è stato il periodo, mi sembra, del 2022 dove i prezzi erano veramente alle stelle. C'è gente che ha pagato dei Patek Philippe che oggi trovi a 100.000 euro, li ha pagati 200. Quindi c'è gente che ha perso decine o centinaia di migliaia di euro proprio grazie agli orologi. Ed ecco, a maggior ragione che sono fiero, anche perché non è un bene di prima necessità, di comprarli a listino. Quindi vi ho raccontato un'esperienza, una delle ultime, dove semplicemente ho espresso, ripeto, interesse per un orologio e il concessionario me lo ha consegnato a distanza di quasi un anno. Ma, devo essere onesto, la maggior parte degli orologi che ho preso, li ho presi costruendo un rapporto col concessionario. Uno dice, costruisci un rapporto, cosa significa? Ci vai a cena? Ci vai a pranzo? Ci vai a fare l'aperitivo? Ci vai a letto? No, nulla di tutto ciò. Meglio sì, poi con determinati concessionari con i quali ho relazioni commerciali, con determinate persone ho avuto un rapporto, diciamo, più o meno amichevole. Sono veramente meri rapporti di amicizia. Alcuni di questi sono diventati miei clienti, lato affitto breve, quindi o loro hanno bisogno di immobili e io sono ben contento di aiutarli, magari li faccio anche un prezzo di favore, o spesso capita che ovviamente queste persone hanno dei clienti molto facoltosi che prenotano ville dal valore di milioni e milioni di euro e ovviamente sanno che possono rifarsi a me. Quindi ricevo spesso richieste di, Ludovico, hai una villa per questo mio cliente a Porto Cervo per tutto agosto? Ovviamente io cerco di accontentare la richiesta, delle volte si conclude l'affare, delle volte no, e ovviamente questo significa creare una relazione. Però oggettivamente la cosa che funziona più di tutte è comprare cionfrusagli. Quindi io posso essere particolarmente simpatico, posso stargli simpatico, posso aiutarlo in ambito affitto breve, puoi fare tutto quello che vuoi, ma l'unica cosa che funziona è comprare cionfrusagli. Cosa sono le cionfrusaglie? Le cionfrusaglie sono, A, orologi di brand che altrimenti non compreresti mai e poi mai, tipo se il concessionario vende anche orologi di Chanel, i marchi più disparati, compra un orologio di Chanel per tua moglie, tua madre o tua sorella o te stesso, la probabilità che poi ti verrà dato un Rolex è nettamente maggiore, comprando cionfrusaglie tipo Rolex che nessuno vuole. Quindi il famoso Rolex col pavè di diamanti o determinati modelli di Rolex da donna sono dei cavalli di troia che ti possono permettere poi di ottenere un Rolex magari più ambito. Perché? Perché il Rolex da donna ad oggi è difficile da vendere, per non parlare degli Chanel eccetera eccetera, tutti questi brand secondari di fascia medio-bassa che magari costano anche tanto ma a livello di orologeria sono molto più scarsi. Quindi probabilmente il concessionario è anche molto più margine e mi è successo che una persona mi dicesse proprio esplicitamente un concessionario col quale ho un rapporto molto basilare, perché poi ripeto ho rapporti con vari concessionari di quali non farò il nome ovviamente, però mi è stato detto guardi deve creare un rapporto con noi, io faccio perfetto, come posso creare un rapporto con voi? Eh deve comprare magari un orologio per la sua signora, non lo so, un orologio di Chanel. Quindi questa persona ad esempio di questo concessionario mi ha detto esplicitamente compra un orologio Chanel e poi io ti metto in lista per ad esempio un Submariner verde, quindi è stato più esplicito. Con altri devi far finta di essere interessato, quindi ad esempio guardi dei bracciali, guardi degli orecchini, gli dici ah sì potrei valutare l'acquisto di questo oggetto. Se acquistassi questo per caso poi c'è la possibilità di acquistare un orologio, con alcuni bisogna andare più cauti e questo ha funzionato. Più volte mi sono ritrovato a comprare della gioielleria, della quale non avevo assolutamente bisogno ma che poi ho avuto il piacere di regalare, ad esempio a mia madre, per sbloccare l'acquisto di un determinato orologio. Mi sono trovato anche poi dopo aver acquistato gioielleria ed orologio, gioielleria ed orologio ad ottenere poi anche un orologio senza dover acquistare gioielleria presso il medesimo concessionario. Mi sono ritrovato anche in periodi fortunati dove magari durante il covid gli orologi te li tiravano dietro perché tanto non c'erano i turisti, non potevi uscire di casa e ritrovarti magari a Capri in vacanza sembrava un miracolo perché era tutto chiuso, zone rosse, mascherine eccetera. E in quel periodo entravi in concessionario a Capri e ti compravi tranquillamente un Daytona Platino a listino senza nessun tipo di problema. Io mi ricordo quell'anno 2020 comprai Yachtmaster Oro Rosa 41 mm a listino ovviamente e Submariner Acciaio e Oro Giallo a listino 2020. Mi ricordo che c'era appunto il Daytona Platino, ma era esagerato per le mie tasche e per la mia persona. Mi ricordo che mi proposerò anche uno DeMar Piguet Royal Oak Oro Bianco Frosted Martellato che mi ricordo quanto costava ma oggi vale almeno il doppio. Quindi ci sono diversi modi per arrivare, ripeto, agli orologi. Ma ancora una volta vi ricordo che se entrate in un concessionario e vi danno subito l'opportunità di comprare un orologio al 99%, quell'orologio ha un valore di mercato inferiore. Ricapitolando abbiamo principalmente tre strategie. Quindi essere meramente fortunati per una casualità, appunto un concessionario sta chiudendo, sta dando via la concessione, piuttosto che il Covid eccetera eccetera. Due, acquistate cianfrusaglie, quindi gioielleria eccetera eccetera eccetera. Oppure acquistate altra tipologia di cianfrusaglie, ovvero appunto orologi di brand che altrimenti non avreste comprato. La favola del mi sono messo in lista e mi hanno chiamato per questo orologio qui è molto rara. È successo a me, quindi diciamo c'è una quarta casistica, è successo a me appunto con questo Daytona acciaio oro giallo. Dovrebbe essere la normalità, cioè dovrebbe essere che tu ti metti in lista e quando è il tuo turno ti viene dato un orologio, ma purtroppo dietro ci sono tanti interessi dove appunto giustamente il concessionario dà a chi spende magari da altre parti. Lo stesso poi in realtà vale anche da Hermès. Ho speso migliaia di euro in coperte, cuscini, ceramiche eccetera e mi hanno tirato fuori un determinato tipo di borsa. Probabilmente dopo questo video non mi tireranno fuori più nulla, ma chi se ne frega, sopravvivo anche senza. Quindi in generale se volete un determinato tipo di orologio le strade sono due, non andate dal reseller, pagate, ce l'avete subito e chi se ne frega, ma sapete ripeto che a livello di investimento probabilmente avete fatto un pessimo investimento, oppure dovete sottostare a queste dinamiche, dove la più frequente è quella di comprare cianfrusaglie che non vi serve, magari anche sovrapprezzata, tennis di diamanti, chi più ne ha più ne metta per ottenere un orologio. La cosa più simpatica è che adesso dovete spendere un sacco di soldi per questi gioielli e l'orologio arriverà più avanti, difficile che sia in pronta consegna. Poi c'è ovviamente tutto il discorso dell'exhibition holly che fa riderissimo perché sono tutti questi orologi che ho scritto solo per esibizione, allora che cosa me li mostri a fare? Però io, ripeto, per mia filosofia compro solo a listino perché per me foraggiare questa tipologia di pratiche è sbagliatissimo, quindi se da qui ai prossimi cinque anni mi troverò un orologio a listino, ne comprerò uno, se ne troverò dieci, ne comprerò dieci, se ne troverò zero, ne comprerò zero perché vivo benissimo anche senza. E in generale comunque la mia filosofia, qualora non l'abbiate capito, mi sono focalizzato su Rolex perché è il brand più famoso, però in realtà a volte mi vergogno anche di comprare determinati orologi, perché? Perché ce li hanno tutti o perché addirittura ormai ci sono tantissimi tarocchi e quindi magari mi prendo un orologio del genere che a me piace, ma uno potrebbe dire ma tanto quello è tarocco oppure ma tanto ce l'hanno tutti, quindi in realtà sto cercando poi di virare la mia collezione più su orologi particolari come l'Octofinissimo Scheletrato, come dei Patek Philippe Vintage, Hublot che non ha nessuno o dei Tagoyer molto particolari subacquei, quindi insomma cerco di variare, però l'importante secondo me è che uno compri orologi per passione e non per impressionare gli altri. Ti ho dato qualche chicca, ripeto tutti fanno i fighi, fanno i misteriosi di come e dove hanno comprato i loro orologi, la verità è che la maggior parte della gente che vedete o li compra da reseller o ha comprato Cianfrusaglie o basta, finisce lì perché la verità è che questi sono i modi per acquistare gli orologi, tralasciando poi chiaramente clienti storici che magari hanno generazioni che comprano da questi reseller, però anche lì un cliente storico perché storicamente magari ha comprato con gli arti diamanti chi più ne ha più ne metta. Quindi niente, spero di avervi dato qualche spunto, se avete qualche storia, qualche caso studio di come siete riusciti ad acquistare orologi senza particolari giri di parole, senza particolari esborsi in Cianfrusaglie, fatemelo sapere perché sarei veramente curioso, ma nella mia esperienza purtroppo se non spendi in stupidaggini è difficile che ti venga dato un orologio. Speriamo che nel futuro cambi qualcosa perché è un peccato, là fuori è pieno di appassionati che purtroppo non hanno magari le disponibilità economiche che posso avere io e magari risparmiano per dieci anni per comprarsi un Submariner che è il loro sogno e no, devi comprare un tennis di diamanti per tua moglie oppure no, devi comprarlo dal reseller al doppio del prezzo o no, ti mette la lista d'attesa e magari ti arriva dopo tre anni se ti va bene. Lo reputo molto sbagliato, molto triste, molto ingiusto anche perché la maggior parte delle persone che comprano questi orologi li comprano per speculazione economica, li comprano per rivenderli, tant'è che li comprano e vanno il giorno dopo dal reseller e quindi poi ripeto l'appassionato magari rimane senza. Vedremo le evoluzioni future, spero ancora una volta di avervi portato valore in questo video. Iscrivetevi al canale e se volete contenuti gratuiti sul mondo dell'affitto breve che è il mio lavoro principale, li trovate tutti qua in descrizione. Ciao, ci vediamo al prossimo video.